Sono 543.143 gli aventi diritto al voto chiamati a rinnovare 49 amministrazioni comunali in Veneto. Questi numeri di una tornata elettorale che vede a Treviso e Vicenza le sfide principali. Calato il silenzio elettorale, la parola passa ai cittadini. Dal pomeriggio è iniziato il tradizionale allestimento dei seggi, ancora una volta ospitati negli istituti scolastici, a dispetto delle tante proposte di portarli in altri luoghi pubblici, così da non intralciare l'attività in classe di migliaia di studenti. Presidenti di seggio e scrutatori sono al lavoro. Si vota domani, domenica dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo, mentre l'eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 28 e lunedì 29 maggio, ipotesi che potrebbe riguardare solo i comuni sopra i 15.000 abitanti nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse superare al primo turno il 50% più uno dei voti. L'eventualità riguarda, oltre a Vicenza e Treviso, Sandona di Piave e Martellago nel Veneziano, Piove di Sacco in provincia di Padova, Villa Franca di Verona, Bussolengo e Sona nel Veronese, Adria in Polesine, Vede Lago nella marca trevigiana. In diversi casi lo sfidante è il quorum, fissato recentemente al 40%, nel Bellunese tutti e quattro i comuni al voto vedono un solo candidato sindaco in Lizza, Canale d'Agordo, Cencennighe, Sospirolo, Pieve di Cadore. Ma il tema dell'affluenza comuna, tutte le sfide, alla disaffezione delle ultime tornate si aggiungono due variabili, il maltempo e la donata degli alpini in corso a Udine. Numeri, analisi, risultati comunque sono tutti rinviati a dopo la chiusura dei seggi, lunedì alle 15, quando si aprirà lo scrutinio. I riflettori di Antena 3 saranno già accesi dalle 14.30 con una puntata speciale di Ringa condotta dal vice direttore Ferdinando Varino. Una lunga maratona con collegamenti e ospiti in studio, i vincitori e i vinti. Vi aspetto lunedì a partire dalle 14.30 con collegamenti, ospiti, reazioni, commenti in diretta. Ci vediamo lunedì.